Se pensiamo a quella frase di Tondelli, lui dice la solitudine è questa, che sembra quasi un appunto transitorio nel diario, se uno lo dice è quasi una riflessione meditativa che può essere temporanea, ho attraversato questo momento, sono in questo momento la solitudine è questa, ma magari tra dieci minuti, fra un anno, fra un mese non sarà più la stessa, io non saprò trattenere questo tipo di solitudine ed è bellissimo perché è diametralmente opposto a qualcuno che scrive e dice questa è la solitudine, perché questa è la solitudine invece è una posizione assertiva, chiusa, prigioniera, che non muta di significato e probabilmente non contiene nulla di vivo, invece la solitudine questa è un appunto temporaneo su un diario che può cambiare da un momento all'altro ed è un'espressione forse più vicina alla libertà che alla cattività. Questo libro è proprio uno dei libri, credo, più importanti della mia vita. Grazie a tutti.